Gentili telespettatori, buona giornata. La zanzara. C'è stato un confronto tra Rizzo e Parenzo. Perché Rizzo dice, ma io non voglio mica finire la mia vita come Schlein che balla sul carro arcobaleno, ci siamo capiti, no? E l'altro gli risponde, sei uno stalinista del BIP. E' così, su Radio 24, la zanzara, uno dei conduttori, Davide Parenzo e Marco Rizzo. Marco Rizzo oggi si fa definire il coordinatore di democrazia sovrane popolare e presidente onorario del Partito Comunista. E' così, nel suo intervento all'evento Italia dei Conservatori, l'intervento di Rizzo, dove lui ha detto espressamente che a lui piace la... Dice, posso dirlo e non mi dovete rompere le scatole se lo dico che mi piace la... E così, dice Parenzo, questo qui è passato da Cossutta a occuparsi della... pensate un po'. Dice, ma veramente della... se ne occupano anche le multinazionali, ribatte Rizzo. Con la distruzione della famiglia, le multinazionali vendono e guadagnano di più. Ma perché voi mettete la crema sotto gli occhi? Io ho usato la Nivea, non vi posso dire per che cosa, per la faccia tutta la vita, ma adesso gli uomini si danno il sotto occhi e le cremine, cioè spendono, e quindi le multinazionali del lusso ci guadagnano. Ma che cavolo, dice Parenzo, ma naturalmente le parole sono diverse da quello che dico io, ma che cavolo, dice Parenzo, questo è pazzesco, tu sei stato ontologicamente uno stalinista del BIP, ma non mi rompere, dice l'altro. Parenzo, parla degli operai, parla dei professionisti che perdono il lavoro, parla dei commercianti e degli artigiani, parla del ceto medio che si proletarizza, non di queste cavolate, sei uno stalinista antipasoliniano, dice il giornalista. E l'altro, io sono nato con Berlinguer ai cancelli della Fiat assieme agli operai, dice Rizzo, non voglio finire come Lischlein che balla sul carro arcobaleno, è chiaro? Io non sono quella roba lì, dice Marco Rizzo, io vengo dai cancelli della Fiat, non a cantare Paola e Chiara sul carro arcobaleno, Rizzo dice io non sono quella roba lì. E Parenzo continua a dire stalinista, stalinista, mentre Cruciani applaude alle parole di Rizzo, aggiungendo che la sinistra si occupa solo dei diritti LGBT, PQ, eccetera, eccetera. Quindi Giuseppe Cruciani applaude a Rizzo perché Rizzo sembra il generale Vannacci, sembra il capo del Partito Comunista di destra. Insomma, forse potrebbe nascere un nuovo partito, il Partito Comunista di destra. Partito Comunista di destra, in effetti guardate che le politiche che fa la destra, anche molte organizzazioni di destra, di andare a portare le dispense, da mangiare a chi non ce li ha, distribuire sacchetti della spesa. Possiamo dire che realmente esiste il Partito Comunista di destra. Ce ne sono tanti che vengono definiti come estrema destra. Tutti quei partiti extraparlamentari che vengono definiti estrema destra, no, quei partiti lì di estrema destra sono quelli che nelle periferie aiutano le persone, sono quelli che aiutano proprio con alimenti, dispense, aiutano anche la povera gente che magari gli viene occupata la casa, aiutano a cercare di fargli liberare la casa. Insomma, diciamo che Rizzo, con questo atteggiamento, fa capire che lui probabilmente non è il capo onorario del Partito Comunista di sinistra. Secondo me, lui potremmo definirlo un capo di un partito comunista di destra. Eh sì, alla fine estrema destra è molto vicina all'estrema sinistra, praticamente estrema destra e estrema sinistra dicono le stesse cose, solo con un colore diverso, ma dicono le stesse cose. Guardate che l'estrema destra è molto vicina all'estrema sinistra, a voi sembrerà un discorso assurdo, ma non lo è. E infatti è per questo che Cruciani applaude a Rizzo, applaude fragorosamente a Rizzo. E Rizzo dice, ma non è sinistra questa roba qua? Quella di oggi è la sinistra delle banche, dell'Unione Europea, della Nato. La sinistra vera si rigira nella tomba. Ma di cosa parli, dice Parenzo? Tu nella tua vita hai fatto sempre e soltanto il deputato e non hai mai lavorato in vita tua. E l'altro dice, perché tu cosa facevi, dice Rizzo? Venivi a mangiare con me a cena quando ero parlamentare europeo? Venivi a fare le tue slappate mentre volevi un posticino? Adesso che l'hai trovato stai zitto. Posticino? Ma sei matto, dice Parenzo. Venivo a chiedere posticini a te che non contavi niente già all'epoca? Contavo talmente poco che tu venivi a mangiare con me per scroccare le cene? Io facevo il parlamentare europeo e tu facevi il lecca. Adesso che hai un posto a non rompere le scatole. Allora, io credo che probabilmente i due sono molto amici e stanno scherzando. Perché non credo che sia una vera litigata. Perché non credo che Parenzo litighi con un Rizzo che non conosce in questo modo. o Rizzo litighi con Parenzo che non ha mai visto. Quindi, visto che andavano a cena assieme, si capisce che secondo me stanno veramente scherzando. Però, forse quello scherzo è un po' andato a male. Ecco, sta di fatto che Cruciani in estasi per le parole di Marco Rizzo. Si dice, io non sono mica come la Schlein, io vengo dai cancelli della Fiat, non vado a ballare sul carro, Paola, è chiara. E magari a telefonare prima all'arcomocromista per chiederle che scarpe mi devo mettere, di che colore. Ecco. Infatti Rizzo dice, ma come fanno gli operai a guardare quella lì? Ora ha ballato anche il rap con quello lì. Ma come fanno gli operai a guardare quella lì? Sempre la Schlein. Quando vai tu in fabbrica, gli operai non sanno chi sei tu, commenta Parenzo. E vi pare di sinistra uno così? Vabbè, insomma, continua poi la diatriba. Però credo che sia tutta una pantomima per far divertire il radio. Non credo che sia stata una vera litigata. Poi magari invece lo è stata veramente. Magari sono degli ex amici che si sono trovati a rinfacciarsi tante cose dopo tanti anni. Però io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.